Eccoci siamo qui con il mister Granara del Bargagli, partita terminata 1-1 tra Ampi e Bargagli Una partita ripresa all'ultimo, ripresa all'ultimo istante su un angolo trovato con grinta, con voglia Un pareggio agguantato che sa di fame, che sa appunto di primo posto perché effettivamente aspettando la gara delle 18 adesso è primo posto Allora io ti chiedo che cosa mi dici di questo pareggio agguantato all'ultimo, che cosa mi dici di questi appunto 90 minuti sudati Che poi portano a un punto che in classifica è importante, giusto? Certo, certo, innanzitutto non sono il primo mister, sono l'aiuto del mister, sennò poi va a finire che mi fanno, non devo prendere meriti che non ho No vabbè, in generale siamo contenti, il fatto di avere pareggiato all'ultimo vuol dire che siamo stati, abbiamo giocato da squadra Anche perché davanti avevamo una squadra di valore, indubbiamente, sappiamo tutti, si è detto sin dall'inizio Che sicuramente noi non ci nascondiamo ma soprattutto anche Lampi sarà una sulla carta delle favorite anche del campionato Direi che per la voglia e per la determinazione sostanzialmente secondo me è un risultato giusto Anche se onestamente oggettivamente Lampi Casas ha avuto qualche occasione in più Soprattutto anche dopo che abbiamo preso l'1-0 abbiamo avuto 5-10 minuti di smantamento dove potevano chiuderla Però in realtà noi siamo stati bravi a stare in partita e a provarci fino all'ultimo Quindi insomma siamo contenti anche perché noi venivamo comunque, sono tutte partite di inizio stagione Abbiamo fatto una settimana fra l'altro di allenamenti tutti basati sulla forza e sul potenziamento Quindi si erano anche particolarmente imballati e quindi direi che è un risultato positivo Ecco si dicevi, agguantata all'ultimo, parlavi appunto della preparazione, dell'essere inizio stagione Io ti chiedo, ho notato la voglia di girare il pallone quando lo si aveva, una voglia continua di cercare lo spazio attendendo E allora è un po' la chiave del gioco che poi porterete anche avanti nel corso dell'anno Magari preparata nel corso di questi primi allenamenti Così mi è sembrato e io ti chiedo se effettivamente sarà così anche durante l'anno Ma sì sì, sicuramente, diciamo che ora compatibilmente col fatto che siamo in prima categoria La nostra idea è cercare di giocare il più possibile anche perché oggettivamente abbiamo diversi giocatori Che per la categoria hanno un'ottima tecnica e altri che hanno un'ottima gamba Quindi insomma il mix delle due cose fa sì che ci piaccia provare a giocarla Poi ovvio che saranno partite dove lo puoi fare, squadre che magari te lo lasciano fare di più o di meno L'Ampi, come dicevo, è un'ottima squadra che quindi gioca e ti lascia anche giocare Nel senso che ovviamente provando a giocare ti lascia qualche spazio in più Quindi sì, sicuramente le nostre caratteristiche sono quelle che hai detto Benissimo, ti ringrazio e auguro un bocca al lupo al Bargagli per questa nuova stagione Grazie mille, saluti a tutti